cos'è chiara cos'è la cucina la cucina come facevi a saperlo e sì ma chi te l'aveva detto scusa come facevi a saperlo ti ha avvisato lui e ti piace e sì fate tu fate tu cosa hai trovato cosa ti ha riportato ma non ti piace e chiara è pesantissima dai 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 che adesso la montiamo